Ciao a tutti, oggi si è conclusa la quarta prova del campione italiano Prestigia Cavallara è stata una buona giornata, nella prima manche sono apparito secondo poi ho lottato un po' con i ragazzi più veloci e ho finito settimo nella seconda manche invece ho fatto un buono scatto al cancello ma ho sbagliato il cambio marcia nel punto sbagliato della pista cioè in salita e nel fango quindi nelle prime curve ero molto arretrato intorno alle ultime posizioni però sono riuscito a recuperare bene, avevo un bel ritmo avevo trovato delle belle traiettorie, soprattutto con i due tempi la pista oggi non era semplice però avendo un buon ritmo ho finito la manche in tredicesima posizione sesto di giornata e ora mi trovo ottavo in campionato è stata una giornata positiva continuiamo a lavorare per migliorare sempre di più e un ringraziamento a tutti coloro che mi aiutano alla mia famiglia, al mio team, alle persone che credono in me e niente ci vediamo alla prossima prova del campione italiano Prestigio Cavallara tra due settimane ciao a tutti